Grazie a tutti, buonasera, mi presento, mi chiamo Leon Udler per chi non mi conosce, mi occupo di sicurezza antiterrorismo, di consulenza, di strategia militare, cercherò in questa prima parte farvi una panoramica della guerra che c'è adesso nel Medio Oriente, io non la chiamo la guerra che c'è a Gaza perché è una guerra che c'è nel Medio Oriente. Nella seconda parte collegherò questa guerra alla minaccia iraniana perché dietro a tutto quello che noi vediamo in questi otto mesi c'è l'Iran e quindi bisogna spiegare come l'Iran ha costruito le sue forze per arrivare al punto nel quale Israele si trova. Io inizierei chiedendo alla regia di proiettare la mappa numero 4, grazie. Quindi come voi sapete il 7 ottobre dell'anno scorso all'incirca alle 6.29 del mattino le organizzazioni terroristiche che si trovano nella striscia di Gaza, non solo Hamas ma anche la jihad islamica, anche il fronte popolare, anche il fronte democratico, anche una fazione che esiste nella striscia di Gaza del cosiddetto Stato islamico, esiste un'organizzazione terroristica nella striscia di Gaza piccola che si chiama ISIS, lo Stato islamico. Anche Al-Fatah, cui capo è il presidente dell'autorità palestinese, Abu Mazen, hanno partecipato a questo attacco. Cosa hanno fatto? Loro hanno iniziato lanciando razzi e missili in tutto il territorio israeliano, fin dove arrivano. Le sirene d'allarme suonarono in quasi tutto Israele, forse nel nord i loro missili non arrivavano e quindi lì non suonavano le sirene. Nel momento che suonano le sirene, tutti i cittadini e soldati entrano nei rifugi. I soldati che si trovano al confine, che potete vedere su questa mappa della striscia di Gaza, entrano anche loro nei rifugi e chi si trova nei carri armati entra all'interno dei carri armati per proteggersi da eventuali esplosioni. Questo attacco è durato molto tempo e finché suonano le sirene d'allarme tutti devono rimanere nei rifugi per proteggersi da esplosioni, da razzi e missili. Ed è proprio in questo momento, mentre loro lanciavano raggi e missili, che le varie cellule terroristiche di tutte le organizzazioni terroristiche che si trovano nella striscia di Gaza hanno approfittato, ovviamente era tutto pianificato, stiamo parlando di un piano e di addestramento che loro avevano effettuato da circa due anni. Loro hanno piazzato degli esplosivi su 15 punti, sul muro di confine che potete vedere inizia nel nord, che confina con il kibbutzikim, non si vede sulla mappa ma prima di Ashkelon c'è il kibbutzikim. Su tutto questo confine hanno aperto 15 buchi, se posso chiamarli così, varchi, che hanno fatto saltare in aria. Da questi 15 punti sono entrati e hanno commesso quel massacro genocida, che sicuramente voi sapete, io non vorrei ripetere quello che è stato fatto. Mi hanno chiesto, quando io ovviamente vado in giro per spiegare quello che succede, quello che sta succedendo adesso durante la guerra, mi hanno chiesto ma i soldati dove erano, i soldati al confine? Come mai non hanno reagito? Come mai circa 3.000 terroristi sono riusciti ad invadere lo Stato di Israele? La spiegazione sta nel fatto che avevo raccontato prima, perché loro avevano lanciato razzi e missili facendo entrare i soldati nei rifugi o nei carri armati per chi si trova al confine. Ecco perché inizialmente non c'era una resistenza da parte dell'esercito israeliano. Dopo che circa 3.000 terroristi sono entrati praticamente dappertutto, voi vedete sulla mappa le città Sderot, Nettivot e poi c'è più avanti Ufakim, però prendete in considerazione che proprio vicino al confine ci sono tutti i kibbutzim, Nakhalos, Beeri, tutto quanto è molto vicino al confine, infatti i primi luoghi dove i terroristi sono arrivati erano proprio questi kibbutzim. Stiamo parlando di sabato mattina, festa di Simchat Torah, Simchat Torah è una festa nella quale gli ebrei commemorano la fine della lettura della Torah nelle sinagoge, perché nelle sinagoge ogni sabato si legge un pezzo della Torah e in un anno si finisce di leggere l'intera Torah, nel giorno di Simchat Torah si finisce di leggere l'intera Torah e poi si inizia a leggerla di nuovo e quindi è un giorno di festa. In giorno di festa, ma anche in sabato, anche se è un sabato normale, di solito l'esercito lascia andare i soldati a casa, lasciando nelle basi e nelle postazioni militari un certo numero minimo di personale per fare la guardia. Quindi in quella mattina c'era un numero minore di personale che poteva proteggere questo confine soltanto contro attacchi che Israele conosceva già e che sono successi negli anni di piccola entità. Un attacco vero e proprio di almeno 3.000 persone che sono arrivati anche con macchine, con delle moto, sulle macchine avevano delle mitraliatrici pesanti, avevano missili anticaro RPG. Loro sono stati preparati per un attacco militare più che un attacco terroristico. Quello era un attacco militare vero e proprio. Oggi sappiamo dire, sulla base di alcune testimonianze di terroristi che sono stati catturati durante questa guerra, che alcuni dei terroristi sono stati addestrati in Iran. Io nella mia pagina Telegram, dove informo, faccio cronaca, faccio informazioni e spiego a volte gli avvenimenti, ho pubblicato un filmato di un terrorista, in questo caso dell'organizzazione terroristica della Jihad Islamica, che ha spiegato esattamente come ha fatto ad essere addestrato a Isfahan. Possiamo forse mettere la mappa numero 6. Isfahan è il centro dell'Iran, proprio in centro. Lui ha spiegato che il suo capo era venuto un giorno da lui e lo aveva proposto di andare in Iran per essere addestrato dagli iraniani e se lui accetta, lui avrà un bonus, cioè lo pagheranno di più oltre allo stipendio. Quindi lui ha accettato perché se lo pagano di più... Lui era uscito, se possiamo tornare alla mappa precedente, numero 4, per chi non lo sa, tra la striscia di Gaza e l'Egitto, possiamo vedere sulla mappa, esiste una città che si chiama Rafah. A Rafah esiste, o forse devo dire, esisteva un valico dove i palestinesi potevano uscire in Egitto e poi ritornare dall'Egitto. Quindi lui ha testimoniato che insieme ad altri terroristi sono usciti dal valico di Rafah verso l'Egitto. Da lì ha preso un aereo, alcuni verso il Libano, alcuni verso la Turchia e poi da lì sono arrivati in aereo fino all'Iran. In Iran, a Isfahan, in una base delle guardie rivoluzionarie, sono stati addestrati per attaccare basi militari, che è esattamente quello che era successo il 7 ottobre. oltre agli attacchi contro i civili, contro i kibbutzini, contro le città, contro civili, contro famiglie, contro persone che erano tutti disarmati. Nella seconda fase spiegherò appunto qual è la strategia iraniana e come mai l'Iran c'entra con questa guerra. Noi pensiamo, noi in Israele, i miei colleghi anche, che il 7 ottobre non è un caso. Pochi giorni prima c'è stata una intervista che è stata pubblicata negli Stati Uniti, io avevo peraltro pubblicato il filmato, il pezzo di filmato, dove il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Muhammad bin Salman, aveva detto, su una domanda della reporter, lei aveva chiesto qual è la situazione dell'Arabia Saudita con Israele, come procedano i colloqui, ci sarà o non ci sarà la normalizzazione, come è stato fatto con gli Emirati Arabi, con il Marocco, con il Bahrain, e lui aveva risposto che la normalizzazione tra l'Arabia Saudita e Israele è più vicina che mai. Noi riteniamo in Israele che questo era il movente, se vogliamo dirlo così, per tirar fuori il piano che le organizzazioni terroristiche avevano già pronte da circa due anni per evitare che ci sia una normalizzazione tra l'Arabia Saudita e Israele. Geopoliticamente parlando, l'Arabia Saudita è il paese musulmano più importante che c'è, per un motivo religioso, per un motivo molto semplice. In Arabia Saudita ci sono due moschee che sono le più sacre per l'Islam. L'una è la Mecca, dove c'è la moschea che è la prima al mondo perché il profeta Muhammad aveva proclamato quel monastero che era un monastero pagano. Gli arabi erano pagani prima di diventare musulmani. Lui ha dichiarato questo monastero pagano una moschea per i musulmani e quindi è la moschea più importante per l'Islam e la seconda moschea più importante che si trova sempre in Arabia Saudita si trova nella città di Medina che non è molto lontana dalla Mecca si chiama la moschea del profeta. Si chiama così perché si dice, secondo la tradizione islamica, che per la costruzione di questa moschea ha partecipato personalmente il profeta Muhammad. Quindi loro credono che Muhammad stesso aveva aiutato, ha contribuito nella costruzione di questa moschea e quindi è considerata sacro santa per i musulmani. Il re dell'Arabia Saudita per via di queste due moschee ha uno status, uno stato molto importante che è il custode delle sacre moschee che nell'Islam, dal punto di vista religioso, è un personaggio molto importante. Siccome rappresenta anche uno stato, una nazione, che è l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita è il paese musulmano più importante per tutti i musulmani, non solo per gli arabi. Gli arabi, i musulmani, forse devo precisarlo, sono circa 2 miliardi e 300 milioni nel mondo, di cui solo circa 400-500 milioni sono arabi. Quindi la stragrande maggioranza dei musulmani, quasi 2 miliardi di musulmani nel mondo, non sono arabi. Sono africani, sono iraniani, gli iraniani non sono arabi. Sono afghani, sono pakistani, sono indonesiani, malesiani, ci sono musulmani in Tajikistan, in Uzbekistan, in Azerbaijan, in Cecenia, ci sono musulmani anche in paesi che non sono di maggioranza musulmana, come nelle Filippine, in Thailandia, ci sono musulmani in Cina, gli uiguri sono musulmani. stiamo parlando di un mondo enorme, di una civiltà, che non è uguale una all'altra, perché stiamo parlando di varie nazioni, però l'Islam è uno solo. Tutte queste persone, nonostante le differenze culturali, storiche che hanno, credono in una sola religione, hanno una fede che è l'Islam. Gli orrori che sono stati commessi il 7 ottobre hanno portato il Gabinetto di Sicurezza e Politica dello Stato di Israele, che è l'organo dello Stato che ha la responsabilità sulla sicurezza nazionale di Israele. È l'unico organo che può decidere se iniziare una guerra, se fermare una guerra, se prolungare una guerra, quali sono gli obiettivi della guerra e così via. Questo è un organo che è costituito da più ministri che fanno parte del governo, non sono necessariamente ministri della coalizione del governo, cioè del partito che appartiene al primo ministro, sono vari ministri. Questi ministri decidono subito dopo quell'attacco il 7 ottobre tre obiettivi principali per scoraggiare, per evitare, per prevenire un altro massacro genocida come quello del 7 ottobre. votando all'unanimità, quindi erano tutti d'accordo e lo sono tutt'oggi, su tre obiettivi principali che sono liberare gli ostaggi, eliminare le capacità terroristiche e governative delle organizzazioni terroristiche nella striscia di Gaza e fare in modo che la striscia di Gaza non torni mai più ad essere una minaccia come lo era il 7 ottobre. Questi sono gli obiettivi, non ci sono altri obiettivi. Chi dice che Israele sta facendo una guerra contro il popolo palestinese mente, perché negli obiettivi della guerra non c'è questo obiettivo, l'obiettivo è contro le organizzazioni terroristiche. Il numero che stimiamo di terroristi che ci sono nella striscia di Gaza, l'avevo anche scritto all'inizio della guerra, è tra i 40.000 e i 70.000 terroristi. Non tutti sono terroristi combattenti, nel senso che ci sono dei terroristi che appartengono alle organizzazioni terroristiche ma non sono quelle persone armate che vanno a combattere o che si nascondano tanti di loro si nascondano ma sono finanziatori, sono capi morali anche, ci sono persone che hanno pensate il compito di incitare i terroristi armati ad andare a fare la guerra, a fare la jihad, la jihad significa guerra santa, per i musulmani è un obbligo, per la fede islamica è un obbligo di ogni musulmano ovunque si trova andare per proteggere un territorio islamico, quindi secondo la loro visione jihadista nel momento che Israele decide di invadere la striscia di Gaza per arrivare a questi obiettivi che sono stati votati ci sono delle persone che hanno il compito non di combattere i soldati israeliani ma di incitare i jihadisti di Hamas, della jihad islamica e così via a fare la guerra, lo fanno via radio, lo facevano via tv finché le compagnie che trasmettevano sono stati distrutti ed è un aiuto morale per i combattenti, per i terroristi delle organizzazioni terroristiche che bisognava anche eliminare ovviamente perché fa parte delle capacità terroristiche dei terroristi nella striscia di Gaza. Non è vero che Israele sta colpendo appositamente per volontà con una motivazione sconosciuta i cittadini palestinesi. Il contrario è vero. Israele che forse è l'unico paese che fa certe operazioni. Io in Russia per esempio nella guerra in Ucraina non ho visto alcuna operazione di quelle che l'esercito israeliano aveva fatto proprio per aiutare i palestinesi a mettersi in sicurezza. Il diritto internazionale dice che bisogna fare tutte quelle operazioni tecniche e militari per limitare il danno ai civili. Israele fa queste operazioni non è precisato nella legge internazionale quali sono queste operazioni però tutto ciò che è possibile questo dal punto di vista giuridico tutto ciò che è possibile fare bisogna fare. Quindi Israele cosa fa per limitare il danno che è difficilissimo nella striscia di Gaza lo spiegherò. Prima di tutto Israele aveva informato i civili nella striscia di Gaza nonostante stava informando anche i terroristi nello stesso momento dove stanno per andare a combattere dove stanno per entrare. Israele lo fa lanciando volantini che sono dei foli come questo che vedete dove in una parte c'è scritto la richiesta dell'esercito dicendo ai cittadini che vivono in questo o quell'altro quartiere di lasciare il quartiere perché stanno per diventare zone di combattimento zone di guerra invitandoli non obbligandoli perché non si può ovviamente obbligare i cittadini a lasciare le loro case però si può invitarli visto che sta la loro casa il loro quartiere la loro città sta per diventare una zona di combattimento si può invitare i cittadini ad andarsene e nell'altra parte del volantino c'è una mappa dove c'è scritto chi ha ovviamente in lingua araba per farli capire dove devono andare quale strada possano fare per uscire dalla loro casa e andare in sicurezza fino ad una zona umanitaria che aveva fatto insieme alle organizzazioni internazionali l'esercito israeliano all'inizio della guerra l'esercito israeliano proprio per limitare il danno ai cittadini per metterli in sicurezza aveva costituito insieme alle organizzazioni internazionali ONU e altre una zona umanitaria ad Al-Muasi se possiamo rimettere la mappa grazie Al-Muasi si trova all'incirca nel sud della striscia di Gaza tra Caniunes che si trova qua e la città di Rafah perché hanno definito Al-Muasi una zona umanitaria perché Al-Muasi almeno da quando la conosco io io la conosco dagli anni 90 quindi da circa 30 anni è sempre stata una zona disabitata Al-Muasi è una zona dove ci sono pochissime case non c'è una città infatti si trova Trahaniunes e Rafah che sono delle città sono delle città anche grandi ma non c'è una città in questa zona infatti in questa zona si poteva allestire tantissime tende e ospedali da campo che anche Israele stesso aveva messo con macchinari che sono entrati da Israele con farmaci con tutto ciò che serve da Israele questo fa un paese che vuole limitare il danno ai cittadini ora nel momento che Israele avverte i cittadini e circa due milioni di palestinesi escano da casa loro usando quei percorsi che l'esercito aveva indicato per arrivare nella zona umanitaria e nella zona umanitaria gli fornisce quello che serve sia per vivere sia per curarsi per chi è rimasto ferito non si può dire che Israele vuole fare la guerra contro i cittadini palestinesi eppure c'è chi lo dice chi lo dice è i malafede perché tutto ciò che vi ho appena raccontato lo sanno tutti non è un segreto sono cose che l'esercito pubblica ripetutamente nel momento che l'esercito avverte la popolazione tutti possono vederlo sui siti internet o social dell'esercito israeliano un altro metodo per aiutare i cittadini ad andarsene dalle zone di combattimento è mandarli dei messaggini si mandano dei messaggini ai loro cellulari messaggini sms e via whatsapp pensate che in alcuni casi quando per esempio bisogna distruggere un edificio che è utilizzato dai terroristi nell'esercito israeliano c'è tutta una procedura prima di colpire questo edificio questa struttura si chiama tutti i cittadini che si trovano non solo in quell'edificio ma in tutto il quartiere perché ovviamente un bombardamento di un edificio potrebbe colpire anche qualche metro in più quindi i servizi segreti israeliani Shabak si chiama o Shin Bet per chi lo conosce così chiama i cittadini che si trovano in un certo raggio da dove un obiettivo sta per essere colpito li mandano dei messaggi li mandano messaggi sms whatsapp per dirgli guardate che questo edificio in questo indirizzo sta per essere colpito per favore allontanatevi da almeno un tot di metri se dopo questo il servizio segreto se ne accorge con la tecnologia che c'è ancora qualcuno nell'edificio o nelle vicinanze li chiamano li chiamano al telefono ci sono delle registrazioni che anch'io avevo pubblicato che dimostrano che i servizi segreti chiamano certe persone per dirgli guardate che qua stiamo per colpire questa struttura per favore andate via così vi mettete a salvo chi fa questo non è uno stato che vuole colpire i civili chi fa queste cose chi mette questa altissima tecnologia che scopre chi si trova vicino a un obiettivo e lo dice ripetutamente con messaggi chiamandolo andate via perché stiamo per colpire questa struttura non è uno stato che vuole colpire queste persone è uno stato che vuole salvare queste persone circa due milioni di palestinesi che sono andati via dalle zone di combattimento si sono salvati perché se rimanevano a casa loro sarebbe stata una strage questa strage non è successa in Ucraina o nel Nagorno-Karabakh queste cose non succedevano l'Azerbaijan o la Russia non hanno mai lanciato volantini per i cittadini dell'Ucraina o del Nagorno-Karabakh non hanno mai mandato sms messaggi whatsapp non hanno mai chiamato i cittadini non hanno nemmeno la tecnologia per farlo non hanno mai avvertito i cittadini che devono andarsi da un determinato luogo in Ucraina noi vediamo da oltre due anni tutte le notti e tutti i giorni droni missili razzi che volano dalla Russia verso l'Ucraina e colpiscano edifici civili uccidendo i cittadini ucraini come mai non ci sono manifestazioni o condanne o all'inizio della guerra qualcosa c'era poi è finito sono da più di due anni che questo succede tutti i giorni contro Israele queste manifestazioni queste condanne avvengano tutti i giorni eppure Israele è l'unico paese almeno che sappia io che fa queste cose questa guerra è lunga va avanti da oltre otto mesi e purtroppo sarà ancora lunga secondo me per tutto l'anno ci sarà ancora la guerra probabilmente anche una parte del prossimo anno se abbiamo tempo vorrei spiegare il perché cinque minuti bisogna capire che Hamas che è un'organizzazione genocida più che terroristica perché loro hanno giurato da quando sono nati di voler eliminare lo stato di Israele e nel loro statuto ma cosa vuol dire questo? questo vuol dire che loro vogliono sterminare quasi dieci milioni di persone in Israele sono quasi dieci milioni di persone per poi dopo aver sterminato dieci milioni di persone vivere in quella terra dove avevano sterminato queste persone compreso bambini anziani donne eccetera loro credono che vivranno lì in pace questa è l'ideologia di Hamas questa è l'ideologia della jihad islamica però vi dirò di più anche le organizzazioni terroristiche non jihadiste come jihad islamica e Hamas quelle nazionaliste come Al-Fatah come il fronte popolare come gli altri che non sono jihadiste sono nazionaliste anche loro hanno questa stessa ideologia Arafat diceva Arafat che era di Al-Fatah che è un'organizzazione nazionalista e non jihadista lui diceva noi butteremo gli ebrei al mare noi libereremo la Palestina dal fiume al mare dal fiume al mare c'è Israele dove ci sono dieci milioni di cittadini uomini donne bambini neonati che loro Al-Fatah che non è jihadista volevano da sempre e vogliono anche oggi eliminare eliminare vuol dire sterminare dieci milioni di persone questo vuol dire eliminare Israele quando loro dicono eliminare Israele non vuol dire cancellarlo da una mappa come alcuni dicono vuol dire sterminare dieci milioni di persone questa è l'ideologia dei palestinesi purtroppo i palestinesi la leadership palestinese da sempre insegna questo ai loro bambini lo insegnano a casa lo insegnano negli asili nidi lo insegnano nelle scuole nelle università nelle moschee tutti i venerdì quando tutti i musulmani vanno nelle moschee la predica è questa noi elimineremo Israele vuol dire noi elimineremo gli ebrei quello a cui loro credono si chiama la soluzione finale che è esattamente l'ideologia nazista non per caso nello Stato di Israele di seguito al 7 ottobre che è stato l'attacco più tremendo più barbaro che lo Stato di Israele ha subito hanno definito i terroristi palestinesi nazisti sono definiti nazisti nello Stato di Israele io li avevo iniziato a definire nazisti ancora prima che in Israele hanno già iniziato a parlare a vedere come dobbiamo definirli non c'è un'altra definizione che possa appunto spiegare questo indottrinamento questa educazione che tutti i palestinesi hanno nella striscia di Gaza purtroppo anche in Giudea e Samaria lascerei magari del tempo per le domande per poi approfondire la questione iraniana se facciamo domande qualcuno vuole rompere il ghiaccio fare prego grazie Leon se dirmi qual è la situazione dei cristiani invece in Giudea e Samaria se ce ne sono anche nei territori di Gaza grazie sì da quando ho fatto io il servizio militare negli anni 90 sono trascorsi 30 anni io negli anni 90 mi ricordo di avervi io ovviamente negli anni 90 Israele era nella striscia di Gaza c'erano dei villaggi nella striscia di Gaza e quindi c'era anche l'esercito quindi io conosco la striscia di Gaza molto bene conosco anche ovviamente la Giudea e Samaria un po' meno bene di Gaza perché ero più a Gaza però conosco Betlemme conosco ovviamente Gerusalemme conosco vari luoghi conosco Genin per esempio Genin è una città in Samaria una città che chiamiamo mini Gaza perché purtroppo a Genin il terrorismo sta quasi arrivando ai livelli della striscia di Gaza erano molto di più negli anni 90 mi ricordo a Betlemme per esempio quando io ero responsabile insieme alla mia unità della tomba di Rachel c'erano cristiani che mi ricordo passavano tranquillamente e si vedeva anche che sono cristiani perché avevano la croce io all'epoca l'italiano non parlavo ancora però parlavo portoghese e spagnolo e mi ricordo che tanti di loro infatti comunicavano con me perché ero uno degli unici che parlava queste lingue oggi purtroppo se qualcuno va a Betlemme o nella striscia di Gaza vedrà molto meno cristiani a Betlemme per esempio la maggior parte dei cristiani sono scappati via tanti di loro sono andati per esempio in Canada perché loro non riescono a vivere in pace con i palestinesi musulmani bisogna precisare che in Giudea e Samaria e nella striscia di Gaza i cristiani come razza sono arabi però per il fatto che hanno una fede diversa dall'Islam sono perseguitati quindi scappano via la loro situazione secondo me è terribile perché se devono scappare via da casa loro per via dell'Islam è un grosso problema è diverso a mio avviso la situazione dei cristiani in Israele in Israele ci sono cristiani anche loro sono arabi i cristiani israeliani sono maggiormente almeno arabi e la loro situazione è diversa perché in Israele esiste la legge della libertà di culto qualunque cittadino può credere o non credere a qualunque religione esiste questa libertà esiste in Israele esistono sinagoge esistono moschee esistono le chiese i cittadini non devono nascondersi è anche vero che a volte succedono degli intrighi tra musulmani cristiani cristiani ebrei ebrei musulmani così penso che è abbastanza normale quando ci sono delle religioni che sono diverse se una certa percentuale poca per fortuna di persone di qualunque fede se sono estremisti è ovvio che alla fine questo porta a degli intrighi però stiamo parlando di certi casi non so se dire casi isolati o comunque sono pochi casi però nella maggior parte di Israele i cristiani vivono assolutamente una vita normale loro hanno tutti i diritti come peraltro anche i musulmani io nell'esercitamento avevo nella mia unità anche un soldato cristiano e non c'era nessun problema io un po' di tempo fa ho fatto un viaggio nei territori palestinesi Ramal e altre cittadine anche Janine mi pare ho visto un sacco di edifici vuoti ma tanti tanti centinaia e centinaia di edifici vuoti perché edificano e non vi abitano a dire il vero anche in Israele ci sono tanti edifici che sono stati costruiti negli ultimi anni e che sono vuoti e è un fenomeno di persone che vivono all'estero che comprano delle case sia in Israele che nei territori palestinesi e li lasciano così cioè loro non abitano ovviamente in queste case so dire di Israele che questo fenomeno esiste perché ci sono ebrei nel mondo che comprano delle case soprattutto a Gerusalemme per avere una casa rifugio perché gli ebrei nel mondo hanno paura dell'antisemitismo se un giorno l'antisemitismo dovesse arrivare a certi livelli pericolosi come peraltro stiamo vivendo in questo periodo purtroppo questi ebrei hanno già una casa in Israele e quindi infatti in Israele si possono vedere tanti edifici completamente vuoti penso che anche nei territori palestinesi esiste probabilmente questo fenomeno il territorio che ho visto io non erano gli edifici non erano terminati solo mura alzate e basta quindi non erano pronti per una fuga più che altro li ho interpretato per un'occupazione di territorio sì allora io avevo pensato infatti agli edifici già fatti gli edifici iniziati sono edifici che marcano il territorio se io ho un edificio in un territorio questo territorio è mio questo è il pensiero palestinese ovviamente questo non è vero forse qua devo spiegare per esempio quello che succede a Gerusalemme Est fino al 1948 anche se sarà una spiegazione magari di qualche minuto però è importante capire il pensiero palestinese fino al 1948 cioè l'anno di indipendenza dello Stato di Israele vivevano ebrei in Giudea in Samaria compreso a Gerusalemme Est avevano dei territori di proprietà avevano delle case avevano dei negozi a Gerusalemme Est c'erano talmente tanti ebrei che c'erano addirittura due sinagoge a Gerusalemme Est scoppiata la guerra dell'indipendenza dal 1948 che è finita nel 49 la Giudea la Samaria e Gerusalemme Est furono conquistati dalla Giordania gli ebrei che vivevano in questo territorio sono stati cacciati via dai Giordani la Giordania aveva preso gli ebrei dalle loro case di proprietà e li hanno mandati via i Giordani a Gerusalemme Est quelle due moschee e quelle due sinagoge li hanno bruciati sono stati distrutti guerra dei sei giorni 67 Israele libera questi territori come anche Gaza e altri dalla Giordania a questo punto la Giudea la Samaria e Gerusalemme Est è sotto il dominio dello Stato di Israele gli ebrei che hanno ancora ovviamente le loro proprietà vogliono tornare giustamente nelle loro case nei loro territori chi aveva un negozio una fabbrica voleva tornare e avere quello che è il suo avere il suo proprietà problema la Giordania in questi anni dal 49 al 67 aveva assegnato queste case degli ebrei a dei palestinesi quindi in queste case vivevano dei palestinesi che erano case di proprietà ebraica allora si fa una causa questa causa è finita non tantissimi anni fa a favore dei proprietari ebrei perché loro avevano delle proprietà quindi hanno il tribunale per venire incontro ai palestinesi che vivevano lì da molti anni nonostante non è di loro proprietà il tribunale supremo aveva detto ai palestinesi ok potete continuare a vivere in queste case però dovete pagare l'affitto ai proprietari ebrei perché è la loro proprietà chi lo fa vive in quelle case chi ha deciso di non pagare l'affitto ad un certo punto ovviamente scatta quello che scatta anche in Italia se qualcuno non paga l'affitto come si chiama lo sfratto quando scatta lo sfratto cosa fanno i palestinesi chiamano al jazira chiamano CNN BBC tutti quanti per dire al mondo guardate che gli ebrei lo stato di israele ci sta tirando fuori dalle nostre case e nel mondo credono a questo esiste un quartiere a Gerusalemme che si chiama Sheikh Jarrah Sheikh Jarrah è un nome falso quel quartiere si chiama Shimon HaZadik Shimon HaZadik è il vero nome del quartiere che era ebraico che è diventato dal 49 al 67 un quartiere palestinese perché gli ebrei sono stati cacciati via e i palestinesi sono andati a vivere lì cosa dicono nel mondo gli ebrei vogliono prendere Sheikh Jarrah che invece si chiama Shimon HaZadik dove ci sono delle proprietà degli ebrei quindi per i palestinesi mettere una costruzione anche senza finirla significa marchiare il territorio per poi quando Israele va a demolire perché ovviamente è tutto abusivo loro chiamano al jazira BBC CNN per far vedere al mondo guardate gli ebrei ci distruggono le case un solo secondo per Betlemme noi conosciamo la chiesa battista di Betlemme che è stata bombardata 17 volte il pastore è stato sparato il suo fratello ucciso questo è un po' la situazione delle chiese cristiane in in Betlemme però adesso volevo chiedere un'altra cosa Rafa non si sa si sa poco non dicono quasi niente lei sa qualche informazione come sta andando la campagna in Rafa? allora Rafa l'esercito israeliano sta operando già da un mese o poco più di un mese non si sente molto semplicemente perché su richiesta degli americani non si fanno delle operazioni grosse come si faceva prima in altre zone nella striscia di Gaza però le operazioni vanno avanti le operazioni sono operazioni delicate a Rafa differentemente dalle altre zone perché si ritiene che a Rafa ci sono tanti ostaggi quindi le operazioni militari laddove ci sono ostaggi per forza di natura devono essere operazioni molto delicate bisogna andare piano piano quando si entra in un edificio quando si scopre un tunnel quando si arriva a un'infrastruttura bisogna essere coscienti i soldati devono essere coscienti che dentro ci possono essere degli ostaggi israeliani o stranieri perché ci sono anche ostaggi stranieri lavoratori stranieri che lavoravano in Israele che sono stati rapiti sono operazioni molto delicate quindi va avanti l'operazione Rafa ma delicatamente proprio un metro dopo un metro perché bisogna essere molto attenti quello che abbiamo visto circa una settimana fa la liberazione di quattro staggi a Nosserat è frutto di un lavoro di circa due o tre mesi circa due o tre mesi fa l'IDF l'esercito israeliano aveva catturato dei terroristi che nel loro interrogatorio avevano dato delle informazioni di intelligence dicendo dove loro hanno visto degli ostaggi ora nel momento che terroristi dicono dove si trovano alcuni ostaggi bisogna andare a controllare se è vero prima di tutto se è vero bisogna creare un piano un piano di azione perché anche se io so che in una determinata casa c'è una persona o più persone non posso il giorno dopo andare lì bussare la porta bisogna preparare un piano di antiterrorismo le unità di antiterrorismo come quella nella quale ero io devono studiare un piano studiare le case esattamente come sono fatte dove sono le stanze dove c'è il bagno dove c'è la cucina le finestre le porte bisogna costruire dei modelli di queste case che si fanno con legno con plastica e bisogna esercitarsi di come entrare in questi posti parallelamente sono entrati a Nosserrat che è una zona nel centro della Siscia di Gaza delle unità sotto copertura con i servizi segreti che si chiamano mistar vim in ebraico sono unità arabesche cioè sono dei soldati o agenti di sicurezza che si vestono come gli arami si truccano tutto quanto e hanno vissuto un certo periodo proprio in quella zona di Nosserrat dove si sapeva che ci sono degli ostaggi c'erano anche delle donne che hanno fatto parte di questi team e andavano sempre con il hijab sempre con il volto coperto per cercare le informazioni ad un certo punto quando il piano è pronto si deve dare al gabinetto di sicurezza che è l'unico organo che può decidere se effettuare un'operazione del genere è stata approvata questa operazione ed è stata fatta io credo che vedremo altre operazioni del genere spero che vedremo operazioni del genere e credo che succederà probabilmente a Rafah però un punto ultimo poi finisco di dire quegli ostaggi questi quattro ostaggi che sono stati salvati a Nosserrat non erano sempre a Nosserrat non erano da otto mesi a Nosserrat questi ostaggi erano probabilmente a Rafah e solo di recente qualche mese fa sono stati spostati verso Nosserrat perché perché si sapeva che l'esercito sta per entrare a Rafah e quindi hanno capito che bisogna spostarli da un'altra parte questi spostamenti di ostaggi sono positivi perché solo spostando gli ostaggi noi possiamo ottenere l'intelligence e sapere dove si trovano allora può essere perché ci sono dei tunnel che attraversano la striscia di Gaza ok non c'è più la mappa ma ci sono dei tunnel dove si possono passare esatto si chiama quello che vedete segnalato in rosso si chiama l'asse Philadelphia che io conosco molto bene perché ho viaggiato in questo asse troppe volte ci sono tantissimi tunnel che attraversano Gaza all'Egitto possibile è possibile però l'intelligence israeliana dice che loro non credono che una cosa del genere è successo bisogna dire che l'intelligence israeliana sta lavorando anche in Egitto sperando che stanno lavorando in Egitto fisicamente e non fidandosi degli egiziani perché tutti questi tunnel che noi vediamo oggi e che hanno già iniziato a distruggere c'è da dire che nel 2012 gli egiziani avevano dichiarato di aver distrutto tutti i tunnel che c'erano a Rafah e adesso noi abbiamo già scoperto dozzine di tunnel quindi o l'Egitto ha mentito o dal 2012 i palestinesi hanno costruito dozzine di tunnel ok facciamo ancora una domanda chi è che ha alzato la mano prego ne avrei qualcuna però una cosa che mi ha sempre colpito di Israele rispetto ai palestinesi è il fatto che i palestinesi fanno una propaganda raccontando menzogne Israele non fa niente non che debba raccontare menzogne ma perlomeno fare un un po' di non dico pubblicità cioè di supportare quello che sta facendo quello che sta facendo lei io la seguo su Facebook è così si vede ma è tanto così o l'Aison Rafa è girato per tutto il mondo perché non si fanno queste cose sono assolutamente d'accordo purtroppo i governi israeliani nel tempo non solo questo ma anche di 20 anni fa 30 anni fa 50 anni fa non hanno mai visto il peso della propaganda palestinese non hanno mai considerato la propaganda palestinese come un'arma potente invece è un'arma potente è vero che non si può vincere una guerra con la propaganda però si può creare tanti danni con la propaganda ovviamente israeli non ha bisogno di fare propaganda come fanno i palestinesi israeli deve soltanto raccontare quello che sta facendo deve limitarsi a dire cosa succede realmente la verità non c'è bisogno di dire cose che non esistono o che non sono vere perché la verità è quanto basta quello che io ho raccontato oggi che è un po' ovviamente con tempo limitato quello che ho raccontato oggi sono cose che bisogna raccontare più volte in più piattaforme nel mondo tantissime persone non lo sanno che i cittadini palestinesi vengono avvisati dove ci saranno combattimenti e che Israele ha fatto delle zone umanitarie con ospedali da campo israeliani personale estero ma i macchinari i farmaci tutto quanto è israeliano nel mondo la gente non lo sa questo purtroppo Israele non investe in relazioni pubbliche non lo so non lo so non lo capisco non lo capisco nemmeno io esattamente come non lo capite voi comunque ci sarà anche ci sarà modo anche poi di fare altre domande ma intanto finiamo magari quelle di adesso va bene ma questo è legittimo ma è legittimo essere contro il governo in Israele ma non dobbiamo fare propaganda Israele non deve fare propaganda Israele deve soltanto informare soltanto quello deve fare informare esatto non c'è e non so spiegare il perché è un problema serio perché anche l'università occupata è pro palestino ok è tutto della propaganda è vero facciamo che lasciamo spazio a quelli che hanno alzato le mani un attimo buonasera lei ha usato un termine forte soluzione finale che ci riporta direttamente alla seconda guerra mondiale e agli stati europei che hanno avuto un ruolo e abbiamo visto l'epilogo ora com'è che si pone la nostra Europa dopo aver festeggiato per anni e anni il giorno della memoria cosa si fa? ma infatti l'Europa ha sempre avuto un rapporto ambiguo con lo stato di Israele da una parte una volta all'anno dicono mai più ci sono delle cerimonie fanno vedere giustamente fanno vedere cosa è successo dove è successo fanno vedere i campi di sterminio eccetera e poi però durante tutti gli altri giorni dell'anno fanno propaganda anti-ebraica quindi è un rapporto purtroppo che in Israele non si può accettare infatti non viene accettato non per caso in Israele quello che fa l'Unione Europea o i singoli paesi europei lo guardano sempre in modo come posso spiegare è come se fosse inutile quello che fa l'Europa quello che fanno i paesi europei perché è un rapporto ambiguo gli ebrei in Israele vedono che in Europa i governi lasciano in alcuni paesi questi antisemiti in piazza cantare dal fiume al mare la Palestina sarà libera questo è un slogan genocida loro stanno dicendo dobbiamo sterminare 10 milioni di persone in Israele quando loro dicono la Palestina sarà libera dal fiume al mare qualche paese ha iniziato a dire questo slogan sarà considerato illegale qualcuno l'aveva l'aveva anche fatto Austria Germania però Israele non deve fare questi slogan perché ripeto Israele non deve fare propaganda per Israele basta dire le cose come stanno la verità grazie per la tua testimonianza volevo fare una domanda che riguarderà il post voglio dire questa guerra si combatterà e si combatterà fino alla fine ovviamente io la seguo quotidianamente chiedo però a lei in prospettiva cosa succederà voglio dire abbiamo parlato del gran mufti sappiamo chi era suo nipote ed era arafat famiglie ricchissime a cui non mancano certo i miliardi e parlo di miliardi di dollari e che hanno fatto di questo obiettivo il life motive della loro vita sappiamo anche che gli articoli dello statuto di Hamas non verranno cancellati ma verranno fatti imparare a memoria ai piccoli e giovani palestinesi quello che mi sono sempre chiesto sappiamo sappiamo che buona parte della popolazione di Israele è composta da arabi sappiamo che l'esercito israeliano ha anche i drusi quindi musulmani possibile che non ci sia mai stato un passaggio di conoscenza sulla bontà di raggiungere la pace quei bambini che speranze avranno di poter non dico cancellare il passato ma di non crescere con quella volontà definita assoluta di vendicarsi grazie grazie per la domanda infatti in Israele io ritengo e credo che sarete d'accordo che nessun bambino nasce terrorista nessun bambino nasce con la volontà di sterminare un popolo purtroppo nella società palestinese i bambini nascono in una società che ha questa educazione per via delle organizzazioni terroristiche che lo impongono la speranza che dobbiamo avere Israele sta già muovendo muovendosi insieme ad alcuni paesi arabi per cercare una soluzione che un giorno sarà pacifica cercherò di spiegarlo in questo momento chiunque dice dovete fare la pace non sa quello che dice letteralmente non sa quello che dice perché c'è c'è una società che è quella palestinese che vuole come avevo già spiegato ma non da oggi da oltre cento anni vogliono sterminare gli ebrei dal 48 vogliono eliminare Israele con una società così una speranza di pace ovviamente non c'è ma non è quello il destino secondo me una volta che nella striscia di Gaza si riuscirà a eliminare le capacità terroristiche governative delle organizzazioni terroristiche bisognerà creare Israele sta lavorando nel tentativo di arrivare a quello un'amministrazione internazionale di paesi arabi moderati che riconoscono Israele o che riconosceranno Israele tra cui gli emirati arabi tra cui il Bahrain tra cui il Marocco tra cui anche l'Arabia Saudita che non riconosce ancora Israele ma è solo una questione di tempo negli emirati arabi in particolare non so se lo sapete loro hanno nella loro cultura nella loro educazione il convivere con gli altri la convivenza pacifica con altri fa parte della cultura negli emirati arabi uniti se Israele riuscirà a creare questa coalizione di amministrazione governativa di insegnanti educatori amministratori da questi paesi arabi che non sono contro Israele che non vogliono sterminare gli ebrei che non vogliono eliminare Israele perché riconoscono già Israele se si inizierà con l'educazione da subito da quando nasce un bambino si inizierà con un'educazione alla convivenza alla pace e non più alla guerra e alla jihad se si riuscirà ad arrivare a questo e questa è l'aspirazione di Israele tra vent'anni tra venticinque anni tra trent'anni ci saranno dei giovani che hanno imparato cose diverse da quello che i bambini imparano oggi e si spera che nasceranno dei movimenti dei partiti politici che vogliono fare la pace e vogliono convivere con un altro popolo perché esiste un altro popolo che non sta andando da nessuna parte che vive nella sua terra con cui si può parlare con cui si deve fare dei compromessi entrambi devono fare dei compromessi per poter arrivare alla pace per arrivare alla pace però bisogna capire che entrambi i popoli devono volerlo devono riconoscere che c'è anche un altro popolo che è lì e che non sta andando da nessuna parte in questo momento non esiste questo per fare la pace ci vogliono due che lo vogliono in questo momento c'è solo uno che lo vuole finché l'altro non lo vuole non ci sarà è inutile per tutti questi governanti organizzazioni ONU UE e tanti altri che dicono fate la pace fate la pace lo dicono con gli occhi chiusi loro non guardano la realtà quindi si spera che con una deradicalizzazione della società palestinese e con una nuova educazione da parte di amministratori arabi in lingua araba si potrà arrivare a delle persone che non diventano jihadisti che non diventano terroristi che non hanno più l'odio allora si spera che si potrà iniziare a parlare e eventualmente fare la pace fare la pace è possibile Israele lo ha già dimostrato più volte Israele aveva fatto la pace con l'Egitto l'Egitto da sempre e anche oggi è il paese arabo più potente tra tutti i paesi arabi era il paese più pericoloso per lo stato di Israele ed è stato il primo a fare la pace con Israele perciò è possibile fare la pace però bisogna educare le persone a volere la pace